Presentata questa mattina presso la sede della Fondazione Pescara Abruzzo la mostra Il rinascimento dei bambini che conclude il percorso progettuale scuola e volontariato del Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. La mostra nata per celebrare i 600 anni dalla Fondazione dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze è stata scelta dal CSV Abruzzo perché racconta la storia dal notevole valore educativo per i valori del volontariato di un'opera sociale tuttora attiva e sostenuta da tutta la comunità. Si tratta di un esempio importante per il raggiungimento del bene comune attraverso una concreta partecipazione della comunità cittadina. L'esposizione è in programma a Pescara dal 21 al 30 aprile nei locali della Fondazione Pescara Abruzzo e a Chieti dal 5 all'11 maggio nelle sale della provincia in Corso Maruccino. Questa iniziativa intanto chiude un progetto con i giovani e quindi già questo dice la sua importanza. Chiudere poi questo progetto con un'iniziativa di soledità significa buttare un seme che i ragazzi possono raccogliere in termini di gratuità, di bellezza, di carità e questo può far sì che questi ragazzi possano contribuire a migliorare la nostra società, a costruire il bene comune. Questo è un po' quello che noi volevamo in qualche maniera dire attraverso questa mostra ma non lo vogliamo dire solo ai ragazzi, lo vogliamo dire anche alla città. Infatti il pomeriggio la mostra sarà disponibile per tutti quelli che la vorranno visitare e mi auguro che siano tanti. È un'iniziativa che coniuga degli ingredienti straordinariamente efficaci. Da una parte i principi di carità, di sensibilità, di umanità e soprattutto dal mio punto di vista laico principi di solidarietà che impiegano anche il senso dell'assunzione del dovere verso problemi critici che riguardano l'età dell'infanzia. Dall'altra c'è un percorso che si intriga con il ruolo dell'arte e della bellezza e sinceramente non riesco a vedere un percorso più nobile per essere solidali verso le criticità dell'età infantile distanti dal ruolo della bellezza e dalla grande efficace duratura capacità dell'arte di rendere più buoni gli uomini.